Luigi Tondini, nuova generazione della cantina Tondini, benvenuto al Porto Cervo Wine Festival. Le prime impressioni su questa manifestazione? Una bella manifestazione, siamo rimasti contenti per questo grandissimo evento. Speriamo anche che il prossimo anno sia anche migliore. Parliamo allora della vostra azienda, dove si trova? Siamo a pochi chilometri da Canangianus, su un'alta Gallura, vicino al Tempio. Quali sono i prodotti su cui puntate? Abbiamo quattro tipologie di vino, abbiamo un fermentino di Gallura, di OCG, poi abbiamo un Nebbiolo, poi abbiamo un Cannonau e poi abbiamo un Passito, che esce quest'anno come primo vino.